migliore amica, ex migliore amica, tutti i miei compagni sono andati al parco e io non sono stato invitato, non sono stato invitato, allora, l'amicizia a una certa età è difficile, poi finisce di esserci l'amicizia, perché cosa succede? quando si è ragazzini si hanno un sacco di amici ragazzi, poi quando si diventa grande si capisce che molte di quelle amicizie in realtà non erano così approfondite, un'amicizia per essere vera cosa deve essere? Deve essere vera al momento del bisogno, momento del bisogno tu ti rendi conto di avere bisogno quando sei un po' più grande e ti rendi conto che ci sono persone che pensavi fossero amiche che però non c'erano, in questa fase qui capisci veramente, quindi scremi le amicizie però durante la vostra età, in adolescenza, anche da ragazzini in realtà, si hanno tanti amici di solito, spesso, però sono amicizie che ti renderai conto un po' più avanti, che non sono così utili e che non sono neanche così importanti come pensavi, non dico tutte, ci sono delle amicizie vere che vengono conservate per tutta la vita, è bellissimo, però tante delle amicizie ragazzi non sono così indispensabili quindi se dovesse finire un'amicizia non fatevene un cruccio così grande ragazzi, ne troverete altri mi hanno tolto dal gruppo dei giochi, ragazzi succedono tante stupidaggini tra amici, se è una vera amicizia fidatevi che troverai un po' come l'amore, se è vero troverai il modo di andare avanti se non va avanti vuol dire che in verità non era così fondamentale, secondo me, amici falsi, ma non è neanche essere amici falsi, è semplicemente, non è un'amicizia così, è un'amicizia leggera che ci sta anche, una conoscenza leggera, ce n'è tante, tante sono queste cose qui, conoscenze leggere, poi amicizie vere ce ne sono meno, è normale grazie